Verranno segnate quattro borse di lavoro, ma quali sono i requisiti e che cercate? Sì, abbiamo in mente quattro ragazzi, quindi tra i 18 e i 35 anni, che come primo requisito non devono avere una forma di lavoro, quindi diciamo rivolte e disoccupati. Due figure le pensiamo come persone appassionate di musica, quindi che siano in grado di gestire una sala prove del comunale, quindi sappiano dove mettere le mani nella strumentazione. Due figure invece è un laboratorio sperimentale assieme all'associazione IES che si occuperà di informatica, robotica, droni e stampanti 3D, quindi molto interessante. Principalmente cerchiamo ingegneri elettronici, informatici o meccanici. Qual è il vostro obiettivo con questo? Con questo finanziamento regionale riusciamo a tenere in vita le sale del Sant'Arcangelo, almeno prima di questa rivisitazione progettuale che abbiamo come amministrazione, per la sala prove e il laboratorio sperimentale a fianco.